1, 2, 3 Vado Il mio nome è Tancianoc Il mio cognome è Belforte Mi chiamo Yuri Berio Rapetti Sono Isabella Boasso Francesca Camusso Luisa Mollard Mi chiamo Laura Figliol Allora, mi chiamo Lisa Spadaro Mi chiamo Ilelia Alocco Emanuele Palazzo Mi chiamo Manuela Zanella Se non fossi un insegnante Viaggerei molto di più e vivrei d'arte Se avessi la possibilità di stare un anno a casa Penso che farei un lungo prelegrinaggio Cioè una camminata in cui cammino E non devo pensare a nient'altro Con un anno di aspettativa Credo che viaggerei per il mondo Senza una meta programmata Andrei dove mi porta il vento Vorrei vivere in un posto caldo Dove non ci siano le stagioni Viaggerei per il mondo Mi piacerebbe vivere al mare Dove fa bello il caldo Vorrei vivere nelle colline toscane Passerei un anno in Thailand In un santuario di elefanti Mi prenderei un camper E andare a fare il vagabondo in giro Tutto dove riesco ad arrivare Se avessi un anno di aspettativa Vorrei fare il percorso Non lo ricordo No lo ricordo Grazie a tutti.